A Palazzo Saluzzo Paesana si è aperta Picasso Rendezvous a Torino, la grande mostra dedicata al genio dell'artista spagnolo. 300 opere tra disegni, litografie, ceramiche, incisioni, opere pittoriche e fotografie, in un'iniziativa che rientra nel calendario ufficiale delle celebrazioni a 50 anni dalla morte di Pablo Picasso. A Palazzo Saluzzo Picasso Rendezvous a Torino resta aperta sino al 14 gennaio.